Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi sono uscite le ultime due sfide spettacolo quelle di Marshmallow, come vedete ragazzi se atterrate a Parco Pacifico otterrete l'emote Keep It Mellow come vedete la stiamo proprio provando in questo momento questa emote ragazzi è molto importante averla nel vostro cerchio dell'emote perché vi servirà per fare la seconda sfida, la terza e ultima sfida usa Keep It Mellow in un oasi di camionisti, una gelateria e un lago ghiacciato vi faccio vedere l'oasi di camionisti dov'è perché gelateria e lago ghiacciato se non l'avete capito ve le punto con la mappa ragazzi penso che l'oasi che si intende di camionisti potrebbe essere quella vicino al laghetto che sta dietro a lande letali, lo andiamo proprio a provare insieme ragazzi in questo momento intanto proviamo l'emote Keep It Mellow, vediamo un po' com'è che cavolo di emote, che cavolo di emote allora intanto vi dico, vabbè il lago ghiacciato lo sapete, non c'è bisogno non c'è bisogno che ve lo dico la gelateria ragazzi è sicuramente l'ultimo edificio inserito stabile nella mappa che è proprio questo, praticamente dove c'è la pista e l'oasi che vi stavo dicendo dei camionisti, la andiamo a provare assieme dovrebbe essere esattamente ora ve la faccio vedere ragazzi, datemi un secondo quella come vi anticipavo, la davanti a noi vedete? dove ci sono i distributori di benzina dove ci sono appunto i camion parcheggiati e penso che sia oasi appunto perché ci sono le palme lì vicine dovrebbe esserci, dovrebbe assolutamente essere quella vediamo subito ragazzi se è così, qualora lo fosse vi ricorderò molto velocemente gli altri due punti dove ballare e sarà fatta la sfida vedo che atterra qualcun altro quindi sono abbastanza convinto che sia questa infatti come vedete anche lui sta ballando ragazzi quindi questa è, c'è scritto anche oasis quindi è molto facile capirlo questa è l'oasi di camionisti balliamo con keep it mellow e come vedete ci dà la prima sfida vi ricordo molto velocemente ragazzi gli altri due punti che sono la gelateria, eccola qua e il lago ghiacciato beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie per la visione!